ogni tanto cambio location, oggi ho cambiato location così sono nella mia stanza dove ho le mie librerie, le mie vitrinette insomma, la conoscete già, ogni tanto la cambio per motivi logistici oggi siamo qui riuniti per parlare delle letture che ho fatto in generale, quindi non so in quanti mesi sono scandite queste letture, ma sono tanti mesi, ecco quindi benvenuti in questo video, vi ricordo che per supportarmi potete iscrivervi al canale e attivare le notifiche, sotto sull'info box troverete tutto il resto non mi dilungo più di tanto, vi ringrazio comunque sempre per il grande supporto quindi inizio subito, tra l'altro inizio con una lettura fresca di giornata l'ho letto proprio stamattina, ve ne voglio subito parlare sto parlando Il posto delle bambine di Ebine Yamagi edito da Cocconino Press al prezzo di 13,90€ questa è la collana, cioè la collana la parte è dedicata ai manga, quindi dopo è stato apportato questo bellissimo volume unico secondo me molto importante da far leggere anche nelle scuole è un volume unico che parla di varie parti del mondo parla di bambine che sono collocate in varie parti del mondo e nello specifico c'è il Giappone, l'India poi c'è l'Afghanistan, l'Arabia Saudita e il Marocco quella che mi ha colpito di più è sicuramente la bambina dell'Afghanistan che è un paese dove i diritti delle donne sono veramente inesistenti quindi è il racconto che mi ha colpita di più ma tutti i racconti sono molto intensi e centrano il punto facendolo in modo narrandolo in modo semplice quindi non mi dilungo tanto sui disegni di Ebine Yamagi che secondo me sono disegni semplicissimi ma di impatto e con il tempo sono migliorate tantissimo purtroppo quest'artista ha una vita sfortunata in Italia perché sono stati pubblicati Love My Life per Dinita recentemente è stato ristampato però non sono stati ristampati agli altri due volumi unici parlando di questo volume è un volume intenso che parla della storia di queste bambine che affrontano appunto la realtà dei fatti dei loro paesi e della loro cultura rispetto alle donne quindi al fatto che le donne vogliano studiare vogliano realizzarsi ma nella loro cultura nella maggior parte delle volte le donne sono viste appunto solamente come coloro che fanno le casalinghe quindi la riassumo un po' così ma è molto più complessa di così soprattutto anche nella parte riguardo il Giappone che comunque è un paese diciamo occidentalizzato ma anche lì la prospettiva che la donna dopo il matrimonio debba ritirarsi dal lavoro è molto forte è ancora molto radicato è un volume unico che vi consiglio tantissimo dateci un'occhiata e dateci un'opportunità anche perché queste edizioni docu sono veramente delle edizioni ben fatte e curatissime quindi ve lo straconsiglio sempre di docu polvere di stelle ve ne ho parlato nel video dedicato qui dove vi parlo dell'evoluzione della collana docu ho continuato ovviamente a leggerlo se nel secondo volume si parla del del passato dei due protagonisti qua quello che mi ha colpito come vi dicevo se mi seguite anche su instagram è la resilienza dei bambini qua c'è la parte del racconto dalla prospettiva dei bambini del dopoguerra che è una prospettiva veramente triste e disperata però loro trovano il modo di sopravvivere quindi questa resilienza e questa capacità di andare avanti nonostante tutto mi ha colpita molto è una storia che vi straconsiglio perché oltre ad essere uno slice of life parla anche della condizione della donna all'epoca e della condizione in generale della popolazione sia giapponesi che in questo caso anche coreana quindi è un'evoluzione ogni numero è sempre più bello e più intenso molto triste quindi comunque si parla di un Giappone del dopoguerra dove la carestia la fa da padrone dateci un occhio e fatemi sapere ma secondo me ne vale assolutamente la pena il costo è di 8,90 euro se non mi sbaglio sono 6 o 7 volumi completa ah esce bimestrale purtroppo di questo ne ho parlato insieme a Barta in una sua call diciamo sul telegram e saluto Barta che mi ha invitato e sto parlando di Tenue Bayori di Yamada Murasaki di questo vorrei fare un video singolo perché avendo anche l'edizione inglese ci sono degli arricchimenti che riguardano quindi l'approfondimento a fine volume che l'edizione inglese ha rispetto di quella italiana che vorrei comunque esporvi a modo mio come al solito sempre per riguardo le opinioni personali questo volume comunque secondo il mio punto di vista che durante la call lo abbiamo riscontrato è godibile anche senza approfondimenti parla di questa casalinga Ciaro e della sua condizione e delle sue giornate all'interno della propria famiglia quello che colpisce di questo volume la delicatezza nel portare questi temi il fatto che abbia raccontato la vita di una casalinga quindi bisogna contestualizzarlo all'epoca non è un fumetto recente e il tratto dell'autrice che è un tratto particolarissimo e unico veramente spettacolare con due linee ti esprime il mondo non ha bisogno di tanti dialoghi non ha bisogno di tanto testo va dritto al punto Ciaro non è una casalinga diciamo normale tra virgolette dell'epoca lei comunque pian piano capisce che la sua strada è l'indipendenza rispetto da ciò che pensa il marito ed è quello che mi ha colpito tanto di questo volume che oltre che descrivere un marito abbastanza imponente ma non così tanto da sottometterla descrive la condizione di Ciaro come madre e come donna allo stesso tempo quindi quella contrapposizione che c'è tra l'essere donna e l'essere madre è un volume unico che vi consiglio tanto è stato non tanto pubblicizzato dalla casa editrice in Audi al prezzo di 16,50 euro quindi se avete a cuore dei temi femministi o comunque vi piacciono queste tematiche ve lo consiglio ovviamente non voglio dirvi ve lo consiglio di tutte le letture perché tutte le letture che ho fatto bene o male mi hanno soddisfatta quindi non andrò oltre questa è una lettura in lingua inglese della casa editrice Drone and Quartertly scusate la pronuncia e sto parlando di Offshore Lightning di Saito Nazuna che ha un bellissimo approfondimento a fine volume come sempre queste edizioni mettono posso comparare con quelle Cocconino mettono al loro interno sempre dell'intervista comunque degli approfondimenti riguardanti l'artista in questo caso è questa donna che ha iniziato a scrivere manga a 40 anni quindi molto tardi e in particolar modo questo volume che a me è piaciuto tantissimo parla si concentra sulle persone anziane sulla loro condizione sulle loro nostalgie su come vengono trattate cosa pensano questi sono principalmente i racconti perché è una raccolta di racconti che ho apprezzato di più perché anche qui delle persone anziane in generale se ne parla poco e ci sono davvero pochi manga che danno ascolto anche alla loro voce il tratto di quest'artista secondo me è bellissimo è molto più mangoso diciamo che termine brutto è molto più classico rispetto a Yamada Murasaki l'ho trovato altrettanto spettacolare ogni capitolo è molto intenso e ricco di dialoghi importanti molto veritieri bisogna sempre contestualizzarli e questo lo vedo bene onestamente per la collana Cocconino quindi io l'ho preso in inglese perché mi aveva incuriosita però speriamo che Cocconino o chi per esso lo porti in Italia perché questa artista è veramente eccezionale e merita anche questa volta un approfondimento quindi questo volume mi è piaciuto tantissimo questo costa penso sui 30 euro scontabili io l'ho pagato 25 se vi piacciono i temi molto forti temi alla Gekiga diciamo questo fa per voi assolutamente non credo e non ricordo se vi avevo parlato comunque scusate i capelli di Gran Terror di Kanako Inuki che è una raccolta anche questa di racconti edito da Dinit a prezzo di 14,90 euro per la collana Showcase Kanako Inuki era stata approfondita nell'altra speciale riguardo i manga horror sempre edito Dinit non mi ricordo se ne avevo parlato qui su Youtube ma comunque è il cufanetto con due volumi dove approfondisce dove approfondisce appunto l'aspetto di tutti i mangaka che disegnano horror tra cui c'è Kanako Inuki e devo dire che questi racconti sono molto carini non sono allora io sono amante dell'horror quindi questi racconti per me a me non fanno paura anzi sono molto godibili ma qua oltretutto c'è una parte comunque emotiva che rispetto ai colleghi maschi secondo il mio punto di vista è molto più forte si parla di sorelle si parla comunque di bellezza di popolarità quindi ci sono tanti temi molto importanti molto forti che vengono raccontati in maniera molto delicata ma con un tratto veramente particolare e molto intenso vi consiglio entrambi cioè nel senso vi consiglio di acquistare Grand Terror se siete amanti dell'horror ma anche il cofanetto con tutto lo specialone perché capirete la figura appunto di Kanako Inuki e la sua importanza a me è piaciuto Keiko Shinzo Sentimental No Reaction che sono dei racconti scritti dal 2017-2021 questo l'ho presi a Luca quando c'era appunto Keiko Shinzo e l'ho lessi mi mancano gli altri due volumi da leggere devo dire che mi è piaciuto tantissimo mi sono piaciute tantissimo il racconto di Tokyo Alimbros volevo essere Taiyo Matsumoto e quella volta che mi hanno ricoverato per un linfoma quindi sono tre racconti diversi due sono autobiografici e uno è quello dedicato a Tokyo Alimbros per quanto riguarda i primi racconti sono decisamente sotto tono secondo me rispetto a ciò che può dare Keiko Shinzo è un volume unico che consiglio a chi vuole approcciarsi e vuole conoscere al meglio Keiko Shinzo ma non lo trovo indispensabile come raccolta di racconti trovo che ci sia di meglio tipo Alien Bros secondo me per conoscerlo è molto meglio qua si conosce appunto la nascita di Ira Yasumi quindi a me è piaciuto tantissimo questo volume unico però ovviamente dovrete essere fan dell'autore e di come approccia narrativamente parlando adesso andiamo a due volumi occidentali per poi ripassare i manga il primo è Earthbreak Hotel di Agnese Innocente e Micol Beltramini Micol Arianna Beltramini edito da Castoro Libri dal Castoro penso al prezzo di 18 euro un cartonato è tutto monocolore o accolorato o bicromato e la storia è più che altro adolescenziale quindi è un target adolescenziale dal mio punto di vista la storia parla di Maya che si ritrova ad accorgersi di essere innamorata della sua migliore amica Laura e che quando si dichiara a lei Laura sparisce completamente lei si ritrova all'interno di questo hotel strano insieme ad altri ad altri ragazzi e ragazze che sono lì per uno scopo ben preciso è una storia molto intensa di un amore un amore mai sbocciato ma di altre problematiche che sono molto attuali e descritte in maniera molto giovanile i disegni di Agnese Innocente io li amo cioè voi lo sapete che amo Agnese e soprattutto io volevo far vedere la fine con le camerette delle due alterici ma non si vedrà mai eccole che sono veramente bellissime Agnese è bravissima è un volume che a me è piaciuto molto ho trovato tantissimi spunti di riflessione e le consiglio soprattutto ad un target giovanile vi aprirà veramente la mente tutt'altro avviso è tutta sola al centro della terra di Zoe Torogood è geniale questa artista cambia prospettiva e cambia tratto in una mariera non so neanche come descriverla è veramente geniale è un'autobiografia di una ragazza Zoe giovane perché è un artista molto giovane che esprime le proprie difficoltà della vita buttandole letteralmente all'interno di questo volume ed è un volume coraggioso dove lei veramente si racconta a 360 gradi e io non me la sento neanche di giudicarla in certi momenti è un volume che parla proprio dell'intimo di se stesso della sua psiche e di ciò che prova durante tutto l'arco della sua vita è un volume potente graficamente sentimentalmente ed emotivamente ci sono delle parti in cui ricorda il tratto quello di Chainsaw Man e già il volume si presenta inizia così ed è bellissimo e anche quello dello studio Ghibli è potentissimo si vede che ci sono riferimenti manga è un volume veramente eccezionale che io non posso che consigliare sempre perché l'ho visto poco in giro e secondo me merita tanto questo è di Bau Publishing al prezzo di 22 euro fine di una serie sto parlando di Tokyo Love Story Tokyo Love Story è una serie che a me ha colpito tanto infatti l'ho messo anche nella top pur avendo letto solamente il primo volume è da contestualizzare perché ci sono tanti dialoghi sessisti di un di un Giappone dell'epoca quindi contestualizzatelo però i protagonisti mi hanno letteralmente colpita e affondata ho adorato tutto il percorso di questa storia semplicissima che si aggira solamente attraverso i quattro protagonisti la figura di Rika è la figura che ho amato di più una figura indipendente molto moderna che fino all'ultimo sceglie se stessa pur avendo bisogno di qualcun altro non vi dico altro però già dal retro si potrebbe capire qualcosa però ve lo consiglio tanto se volete una storia molto tranquilla che si vada solo sui sentimenti e sui rapporti umani io lo adorate ancora sono il lutto di Todabao Publishing in quattro volumi a 12,90€ letto per analisi manga per chi mi conosce su Instagram sa Kasane di Daruma Matsura che tra l'altro è la stessa autrice della luna e l'acciaio Kasane ha una potenza questo manga non so perché è passato in sordina ma ha una potenza tutta sua ha come base la bellezza la bellezza come fondamento della società e tutto ciò che è attorno la bellezza che supera addirittura la bontà d'animo quindi la bontà del proprio carattere o la meraviglia del proprio carattere del proprio talento è un percorso da leggere a mio avviso tutto di un fiato quindi se lo volete recuperare recuperatelo tutto insieme perché ne vale la pena ogni volta che finirete un volume ne volete leggere un altro quindi recuperatevelo insieme parla di questa ragazza Casane Fucci che è brutta secondo anzi definita quasi un mostro secondo gli altri bravissima a recitare come la sua defunta madre ma quella madre ha lasciato un rossetto particolare il rossetto può rubare il volto degli altri quindi lei per recitare cercherà di rubare il volto delle persone per essere più bella più presentabile e far capire il suo talento perché non si sentiva pronta ad esibirsi con il suo viso che viene visto da tutti come orrendo è molto istruttivo devo dire non so perché è passato in sordina ogni volume sono 14 volume in totale costa 6,90 euro rimanendo in tema rimanendo in tema da Roma Mazzura la luna e l'acciaio 2 bellissimo anche questo secondo volume secondo me si addentra ancora di più rispetto al primo nella storia nel vivo della storia vedremo che fine ha fatto Tsuki si scopriranno un po' di misteri ma non troppi c'è l'arrivo di un nuovo personaggio io voglio già sapere come va avanti quindi vedo l'ora di leggere il terzo volume è una serie che mi sta piacendo tanto almeno nel secondo volume non mi ancora delusa non vedo difetti se no nel dilungamento un pochino di alcuni dialoghi però vale la pena il prezzo è 6,90 euro edito J-pop ritorniamo a Doku con Amane Gymnasium sì penso Gymnasium di Usamaru Furuya io sono in fissa con questa storia questa storia appunto di questa ragazza che ne ho già parlato qua si sviluppano le relazioni tra le varie bambole sono relazioni tipiche appunto di un gymnasium creato da Motoage o da Takemiya Keiko per esempio e trovo che queste relazioni tra le varie bambole si stiano sviluppando in maniera del tutto naturale e con dei dialoghi veramente incalzanti che ti prendono dal primo all'ultima pagina infatti vedo l'ora che esca il quarto volume per poter continuare è una storia che mi sta piacendo veramente tanto non posso spoilerarvi oltre ovviamente ma dategli un'opportunità perché secondo me vi prenderà abbastanza sono un po' rosico un po' perché al Napoli Comic Con c'era il quarto volume disponibile non ho potuto prenderlo andiamo avanti ho letto il numero 11 e vi ne ho già parlato nel video nell'ultimo video di Kokunicchi storia che vi consiglio fino all'ultimo giorno della mia vita è una storia di formazione di accettazione del lutto e di elaborazione del lutto nonché di evoluzione dei propri sentimenti quindi è una storia che consiglio la flashbook porta sempre o quasi sempre dei titoli che a me piacciono tantissimo soprattutto che arrivano da una rivista che io amo che è Phil Young quindi dateci un occhio se vi va guardate anche il video dedicato ho finito questa è una nota dolente la principezza rock di Kate Homme tra l'altro vorrei portare una live dedicata a quest'artista a prezzo di 6,50 euro edito Goen Goen non ci ha detto però che esiste un seguito di questa serie in tre volumi perché il terzo volume praticamente non finisce ve lo dico già proprio sinceramente lo dice anche l'autrice a fine volume che cambierà rivista e continuerà e sono rimasta male perché ovviamente rimarremo con un'opera Monka con un finale inesistente non sapremo mai nulla insomma quindi non sapremo mai nulla di cosa farà Mao con la band di cosa farà Yokiko come cantante dell'altra band insomma l'unica cosa che ho apprezzato di questo volume sono le pagine a colore iniziale perché Kate Homme è bravissima e ho apprezzato queste pagine a colore iniziale ce ne sono tante tipo una gallery non lo consiglio sicuramente l'acquisto in questo caso perché non finisce quindi aspettate l'annuncio del seguito secondo me non vale la pena recuperarlo a meno che non siate delle fan appunto dell'autrice volete tutto finisco con la perla che è Irayasumi il numero 4 di Kego Shinzo in questo caso capiamo ancora ancora meglio la libertà che dovremmo proseguire la libertà di roto che dovremmo proseguire noi nel nostro cervello che ovviamente nella vita che conduciamo oggi è impossibile ma io la libertà che esprime i roto è la libertà che cerco da sempre e che ricercherò sempre in questo caso i roto fa un passo ancora ulteriore del suo carattere della sua maturità anche se alcuni magari potrebbero non apprezzare e lo trovo tutto godibilissimo molto calmo molto tranquillo che mi crea anche se ci sono problematiche mi crea quel momento di pace e serenità se volete un titolo quindi che vi dà serenità questo va per voi assolutamente che Kego Shinzo secondo me con questo ha superato se stesso senza dubbio non ho nessun problema a dirlo rispetto alle altre opere questi sono tutti i titoli che ho letto nell'ultimo periodo non vi ho messo i primi volumi ovviamente ho letto anche altri primi volumi ma che vorrei inserire nella rubrica apposita ho iniziato nuove serie manga quindi presto farò anche quel video lì fatemi sapere se avete letto qualcosa di quello che vi ho fatto vedere mi raccomando lasciatemi un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale spero che appunto il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao